a sciameli una puntata di cripto profia non sappiamo questa sentita la volta non to 3,2,1 non come una cosa vai ok, testa vai sinistra ma salta pure ok, ora devi saltare salta salta sempre vai vai non devi bloccare vai vai simon vai simon e canne simon ben ci siamo cazzo un polizia ovunque vaffanculo e basta we are the champions my friends no no dammit what was that? are those nations? eh cacaci il cazzo, i drogi eh ti sbaglio dei pieta sgnaffa shit shit però è bravo l'attore che parla di recita che il doppio disse i need to get some help or at least just fanno me back home for so i wonder who the sick doctor is i wonder how i wonder why oh capitolo 3 wow capitolo 3 stiamo avanzando avanza piano piano aspetta controlla sempre a terra se c'è qualche bella questa musica o sai cosa mi ricorda sta musica? sai lentiglia tantissimo grazie veramente è piatante ma ci sta un cazzo avanziamo si fa che non ci sia di niente di niente di porta eh? eh? ah? eh? ah? eh? ah ma si cala ah ah se le so come sta? come sta? come sta? come sta? come sta? aspetta un po' se c'è qualcosa bottiglie non cadere ci sono di più male ehm no va beh porta come sta? questa porta e' che sta? ma e' tutto quanto so no ma come sta? si riga salva Sì, si ringa! Non lo dirà nessuno che si sa Non lo dirà nessuno che si sa di dire Eh, ma una si ringa non la deve iniettare forze Quasi pure acqua di qua No, io me lo sento Tossigati! Non guardate! Non lo fate! Eh? Mi si può vendere la bicicletta Dimmi che può vendere la bicicletta Mi prego Stream Oh! Aspetta la mamma! Eh! Mamma devi sapere che cazzo sto passando Aspetta la macchia No, non ho fido sto posto Non mi fido Fammi trovare i fagioli Guarda come esce qualcuno da qualche parte Marona, ho paura Urla virili a livello estremo Non è che non può Guarda quanto è blu Sembra zio testa Sembra Mamma! Oh ma no! Oh ma no! Oh! Crema! Mignotta! Aspetta le spalle C'è qualcosa prossù Aspetta una sirindra C'è una sirindra C'è una sirindra C'è una sirindra Tornati e giri No! Giri qua! La sirindra è qui! Oh! Eh! C'ho gli occhiali Quattro occhi sono meglio di tu Oh! Boh! Il coniglietto! 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 Che che ha visto? Devo tornare a casa! Mando basso questo pull! Mando basso questo pull! Se il coniglietto I can take the subway I can take the subway No! No! La subway no! La subway no! La subway no! Quanto è carino questo coniglietto! Perché si chiama caniner? Che... Che... Il blatano picciatore di Harry Potter Versione Vagina! Che cazzo! Aspetta che ci sono qualche proiettivo in giro! Vi un po'! Police! Che c'ha scritto? Police! Fuck! Mi sembra di andare verso la vagina qua! Questa è la... La blatano vagina picciatrice! Aspetta un attimo! Ma che bestie immonda sei! Chi ti ha mandato? Satana? Aspetta che cos'è quella cosa da prima? Una testa! Ah! No, non ti andare qui! No, non dobbiamo andare qui! Non ti avvicinare questa... Ah! Qua dobbiamo andare! In questa luce! Ci vediamo la prossima... Fate la foto? Si! Su Twitter o su Facebook o su Instagram? Su Instagram! Aspetta! Aspetta! Allora ricorda che adesso esce Ciccio qua eh! Basta! Basta! Crepa! Mignotta! Crepa! Mignotta! Crepa! Mignotta! Cosa? Cosa? Mignotta! Se fossi te... Ma la siringa! Aspare impi! Aspare i sedetti! Mamma, sto fai con te! Mamma, sto fai con te! Mamma, sto fai con te! Sto combattendo contro i mostri e mi sto drogando! Stai sicuro che sto fai con te? Cioè con te è rimasto! Ma se sto rumore bruttissimo! Tipo... Ah! Cammazzo! Ti f***o! Dai f***o! Dai f***o! Dai f***o! Dai f***o! Ma cazzo muori! Adesso si! Vedete se ci sta qualche cosa... Si chi sta! Vuoi intere lo shotgun! Volevo accortellare di... Ricarica lo shotgun! Comunque non ci sta nessuno! Guarda a me! Ora si fa! E lo devi equipaggiare! Lì! Ok! Ricarica! Stai da 1-5 proietti alla volta! Ok! Meglio! Ora! Un'altra volta! Così! Eh! Ok! Vedete! Vedete! Modesta! Oppure dentro no? Dentro che mi sa che non c'era nessuna parte! A me che c'è qualcun altro! Che mani panza! Chiesola! Ah! 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 Dio mio! Mi f***o! E cazzo che sta f***o! E cazzo! E credo! Mi sei! Mi sei morta! Credo! Che f***o! Dio! E tu chi cazzo sei? Aspetta! Se è uno che sta fermo non usiamo lo shotgun! C'è anche un caricatore là! Oh sì! Allora! Io non sprecherei colpire lo shotgun su questo che fermo! Anche se c'è il martello in mano! Io non lo sprecherei! No! Dai! Non lo sprecare! Abbiamo già soltanto nuovi proietti! Dobbiamo uccidere! Dobbiamo uccidere! Dobbiamo uccidere? Eh sì! Sennò questo non ci va passare o no! Oh! Oddio ti faccio il martello! Oh! Ma che cazzo? Ma quando hai lato subito? Eh! Ma è morto! Ah! Aspetta no! Non lo sprecare! Io ho visto lo svolgno qua! Eh! Ah! Giù! Destro, sinistro! Aspetta! Ancora una cosa giù! E' morto! E' morto! E' morto! Un po' Guarda ha il paginosauro a sinistra! Quando è stato preso? Il paginolante a sinistra! Ok! Ricorda che non è per il seringone? Salire, mamma! Stai facendo spiegatresini! Senti come dormi. Ah! C'è una dove salire! non è legno è cacciaiolo nozza cazzo 8-10 posso coltello è il tipo di quelli di plastica dobbiamo andare a forza di qua io non sto adesso starebbe attento a sinistra non c'è nessuno scuso no va a putta il pozzano io ho messo due treva mignotta scelto non mi piace proprio non mi piace uno scelto più grande? secondo me si guarda anzi ricaricature inserisce il proiettile che troia da risom zombie ovunque 3,2,1 no ma aiutare indietro oddio aspetta in bocca glielo devi sparare ricarica prima di avanzare ricarica testo sinistra non mi ricordo non lo so mi sa dritto dobbiamo andare aspetta che c'è alcun altro sicuro guarda come mi sono cagato addosso ho fatto l'urlo più virile della mia vita mettilo st'altro mettere qualche punto di salvataggio magari eccolo qui alleluia che dici vuoi morire ancora oppure vuoi morire ancora non vuole morire più va bene basta 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 parlo io questa volta? ti voglio bene? no no guarda io però non ti preoccupare io sono vento vieni faccio questo che faccio questo? io mi sono cagato addosso faccio che mi cagato addosso questo faccio se vi è piaciuto condividete commentate mettete mi piace se poi vi è piaciuto tantissimo aggiungete da preferiti ci vediamo nel prossimo episodio di Ciambelli Ciambelli